Io ve li voglio presentare ad uno ad uno, a partire dalla chitarra, signori per voi, Aaron Moreno. Basso Federico Ferrarello. E' la percussioni Salvatore Ferrarello. La batteria di Inizio Sallo. E signori sax per voi, Marcello Grossi. E signori sax per voi. E signori sax per voi. E signori sax per voi. Ecco il turbo. Eccolo. Applauso, applauso, forte, forte, forte Applauso, applauso, forte, 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 forte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti